Oggi scopriremo come controllare il nostro saldo e lista movimenti della nostra Postepay sul sito web di Poste Italiane e allora cominciamo subito e andiamo sul sito www.poste.it e andiamo a cliccare in alto a destra sul tasto area personale inseriamo le nostre credenziali il nome utente e poi la nostra password e clicchiamo su accedi in alternativa possiamo anche scansionare il QR code in caso di accesso con QR code possibile soltanto con l'app per la verifica d'identità sarà sufficiente inserire direttamente il codice Poste ID in app si aprirà così la pagina dedicata ai prodotti nostro possesso clicchiamo su accedi in corrispondenza del prodotto che intendiamo visualizzare ad esempio Postepay e tue carte nella schermata successiva troveremo tutte le carte Postepay di cui siamo titolari di nuovo clicchiamo su accedi in corrispondenza della carta che vogliamo visualizzare in caso di accesso con nome utente password verrà richiesta una verifica d'identità in app Postepay o in app Banco Posta clicchiamo su prosegui e riceveremo subito una notifica sul nostro cellulare clicchiamo su autorizza ed inseriamo il nostro codice Poste ID direttamente in app se non abbiamo scaricato nessuna delle due app possiamo sempre effettuare la verifica d'identità chiedendo l'invio di un codice OTP one time password sul nostro numero di cellulare e inserendolo poi sulla schermata di accesso dal nostro pc in primo piano troveremo saldo contabile e saldo disponibile il saldo contabile comprende tutte le operazioni registrate sul conto corrente e visualizzabili nella lista movimenti fino ad una certa data il saldo disponibile invece mostra l'effettiva disponibilità di denaro presente in un preciso momento sul conto o sulla carta prepagata ed include le spese recenti non ancora contabilizzate nella lista movimenti scorrendo in basso potremo vedere nel dettaglio gli ultimi movimenti e cliccando su mostra tutti avremo una lista completa inoltre in fondo alla lista movimenti è possibile scaricare l'elenco di tutte le operazioni effettuate dall'attivazione della carta in vigore in tuo possesso selezionando il documento il formato excel oppure il formato pdf ricordiamo che possiamo controllare saldo e lista movimenti anche tramite app tramite un atm oppure in un ufficio postale